Un ponte fra la Sardegna e il Giappone passa dall'imminente uscita di un libro di uno dei più grandi critici d'arte del Sol Levante e lo pubblicherà all'Accademia di Sassari. La relazione fra natura e uomo, fra natura e arte, il sentimento di appartenenza totale dei giapponesi. Questo permette di comprendere la compostezza di un popolo in ginocchio davanti alla distruzione, una cultura che anche attraverso le opere d'arte aiuta a comprendere. Fra il Giappone e la Sardegna è nato un nuovo legame. L'Accademia di Belle Arti di Sassari, con la sua società editrice, pubblicherà il libro Lo stile nell'arte giapponese di un professore di estetica italiano, Raffaele Milani, e di uno dei più grandi critici d'arte giapponese, i nemici Tanaka. Durante un incontro con studenti e insegnanti, il professor Tanaka ha spiegato come l'uomo e la natura non siano mai nemici. Noi pensiamo di ricostruzione adesso, di nuovo, perché questo è anche dono di natura. Quando questo dono può causare la morte di decine di migliaia di persone? Sì, naturalmente questo è danneggio, cioè questo disastro è terribile, ma anche mio amico è morto. La pubblicazione sull'arte giapponese è il primo progetto di una serie che vedrà la luce in maggio. Il prossimo riguarderà l'arte italiana che il professor Tanaka ha studiato a lungo a Firenze. Un capitolo sarà interamente dedicato alla Sardegna.